Ci sono persone tra voi che mi scrivono che nonostante ritengano di aver fatto pace con i propri familiari più stretti, papà, mamma, vi dicendo, ancora attirano situazioni di disagio nei confronti per esempio del sociale, vuoi nel lavoro, vuoi il partner e chiunque altro. Questo è un video di risposta, io rispondo ora a Farfalla Danzante, intanto ti ringrazio, e lei dice, riferendosi ad un video che avevo pubblicato, Ciao Fabio, interessante come sempre, grazie. Se io invece i problemi non ce li ho con i miei familiari, tra parentesi, perché li ho già accettati, Se mi sento soffocare da determinate persone che non hanno il mio DNA, ma sono costretta a vederli, se il mio unico sogno sarebbe essere liberata da loro ma per una serie di questioni pratiche, non posso allontanarmi, che dovrei fare? Allora, cara Farfalla Danzante, c'è una cosa che va subito detta, che noi non è vero che non abbiamo parti del DNA della persona che ci capita, diciamo, con la quale possiamo interagire nel sociale che non abbiamo mai visto per tanti anni. Dentro di ognuno di noi, e qui la scienza ci viene di aiuto, abbiamo legami con terre distantissime. Dalla saliva si può capire se tu, per esempio, hai origine turca invece che russa, invece che cinese, e guardate che questi intrecci riguardano tutti gli umani. Se voi andate un po' alla ricerca di quello che si dice sul DNA, scopriamo che molto spesso noi ce l'abbiamo con persone, me la invento, con le persone arabe, perché vista la situazione attuale può anche darsi, e scopriamo che nel nostro DNA, dalla nostra saliva, esistono tracce, quindi parti genealogiche nostre, che hanno a che vedere con il Marocco, l'Algeria, o con l'Iraq, o con quello che è. Ovviamente andiamo ad approfondire il tutto, e andrò a spiegarvi il tutto dopo la sigla. Va detta subito una cosa, lei dice, la carissima farfalla danzante, questo è un commento che nasce da YouTube, che se tu attiri persone che sono fastidiose, vuoi nel sociale, vuoi nel lavoro, o chiunque altro, non vuol dire che tu non hai fatto un buon lavoro nel tuo rapporto con i tuoi avi, ma che ci può essere, anzi c'è, da lavorare, un qualcosa che accade tra i tuoi avi. Facciamo l'esempio estremo, che tu hai tolto ogni, diciamo così, ogni resistenza, ogni rancore, ogni rabbia, con i tuoi, diciamo, componenti dell'albero genealogico, dei tuoi genitori, le tue zie, zii, nonni e chi altri. Però attiri persone che ti danno fastidi, abbiamo visto innanzitutto che il DNA è tutto un intreccio, ma non è lì il punto dove voglio arrivare, è che se tra tuo nonno e tua nonna ci sono stati dei contrasti, o il tuo nonno con il sociale aveva dei problemi, non so, per esempio nel lavoro, quello è un caso, un irrisolto da risolvere, e siccome il tempo non esiste a livello inconscio, tu te lo puoi trovare nelle più svariate forme. Va detta subito una cosa, il sociale, quindi le persone che tu, a fare la danzante, hai conosciuto oggi, ieri, conoscerai, bene, sono persone che hanno molto a che vedere con il vissuto dei tuoi nonni maschi, e anche con i tuoi bisnonni maschi, loro oggi, e anche con tuo padre, ma loro oggi, quello che è stato il loro vissuto soprattutto nei primi 19 anni, diciamo, più quando erano fetto, bene, tutti i loro irrisolti, oggi, te li trovi a più pati nel tuo rapporto con la società, la società uguale vita dei nonni. Se il tuo nonno ha vissuto un'infanzia in grande solitudine, o ha vissuto dei contrasti rispetto ai loro genitori che non andavano mai d'accordo, oggi quelle informazioni si ribaltano a mo' di specchio nel tuo rapporto con il collega al lavoro o con le persone che possiamo etichettare appartenenti al sociale. Facciamo ora due esempi per capirci un po' di più. Allora, facciamo che il tuo caso sia, c'è un superiore al lavoro, il tuo titolare, il tuo dirigente, quello che è, e tu, assieme ad altri colleghi, avete così una paura rispetto al suo imporsi nel lavoro o ci sono contrasti tra voi colleghi e vi dicendo. Tutte le volte che noi parliamo di titolari responsabili, ricordatevelo, stiamo parlando di una figura che fa da specchio a tuo nonno e ai tuoi bisnonni, anche ad altri componenti, però limitiamoci a questo. Facciamo l'esempio più classico, che tuo nonno avesse avuto assieme a tua nonna cinque figli, però li trattava molto male. Oggi nel sociale, nello specifico, questo esempio inventato, il tuo superiore è tuo nonno. I colleghi tuoi e te stessa siete i figli di tuo nonno e siccome lui mancava di rispetto o non riconosceva il vero valore dei figli, oggi il superiore manca di rispetto a te. E se uno di questi figli, ipotesi, tuo padre, si sentiva schiacciato dai suoi fratelli e sorelle che non lo difendevano come lui avrebbe ipotizzato dovesse accadere, oggi puoi trovarti che le tue colleghe, i tuoi colleghi non ti difendono di fronte a un'ingiustizia nel lavoro, nel sociale e quant'altro. Ora facciamo un esempio in ambito relazioni di coppia. Ipotizziamo che tuo nonno materno si sia sposato due volte. Chiamiamo Maria e Lucia le due mogli. Maria morì dopo due anni entrò in scena Lucia che poi diede alla luce tua madre. Questa dinamica è molto importante ed è molto interessante anche perché analizziamo bene come si è sentita tua nonna. Tua nonna dice se non fosse morta la prima moglie tu non mi avresti mai scelta. io sono il rimpiazzo quindi di un lutto. Cosa significa questo? A parte una predisposizione ad avere eventualmente problemi per i discendenti di prima e seconda generazione alle anche o alle caviglie, però a parte questo il fatto che lei non si è sentita scelta può diventare oggi. Un problema che tu hai con tuo marito è la suocera tua dove lui ti dà l'aspetto che invece di difendere te difende sua madre. Quanto meno non fa di tutto per crearti il mondo migliore, una vita di coppia sana. Perché? Perché come tua nonna non si è sentita scelta. Quindi tu sei nelle veci di tua nonna e tua suocera è nelle veci della prima moglie che tuo nonno ha avuto. Che si sa a livello inconscio è la prima e unica persona che lui ha scelto. L'altra è venuta solo grazie ad una morte. Lo stesso si può dire su situazioni dove tu sei unita ad un uomo che ha già prole, ha un'ex moglie e vedi che fa di tutto per quel nido ma poco per te. Non che questo non possa essere in gran parte giusto, però magari tu non lo accetti. Tutto nasce da questa doppia unione che ha avuto il nonno. Dove tuo marito o compagno che sia sembra diciamo così difendere più il primo nido, la prima moglie che te di fronte a un'ingiustizia. Cosa possiamo fare di fronte a tutto questo? Qual è la soluzione? Indagare, indagare e indagare. Investire il vostro tempo, trovare persone, mi permetto di dire come me, che vi fanno capire gli schemi. Ma almeno leggere, dico leggere libri che parlano di questo. Capire dov'è l'incastro malsano che ti sta portando ad attirare certe persone che pur non avendo legami genealogici ci rompono le scatole. Di questo ne beneficeranno anche i tuoi discendenti, non soltanto tu, perché avranno un terreno ben spianato. Ora qui sotto sui commenti riportate, come dicevo nel video di ieri, delle piccole vittorie, cioè dove siete riusciti a capire un aggancio tra una cosa presente e un qualcosa di genealogico. Come ho già avuto modo di dire più volte, Antonio Bertoli diceva che quando non riusciamo a trovare l'aggancio tra due eventi, quello presente e quello esempio passato o genealogico che sia, abbiamo vinto quella memoria del 70%. In pratica abbiamo un 30% che ci ostacola e un 70% di probabilità in più di avere una vita dignitosa. Bene, se volete approfondire di più il cosa vi sta ostacolando nella vita, vi ricordo qui sotto, se mi seguite da YouTube o qui sopra, se mi seguite da Facebook, il link per poter, diciamo, avere informazioni per prenotare eventualmente una sessione individuale con me. L'altro link sono i videocorsi che vi potete tranquillamente seguire con i vostri tempi da casa. Un grandissimo abbraccio da fabionezzac.net